Una bella serata, tanta gente, quindi siamo contentissimi. Abbiamo unito la solidarietà alla musica, grazie alla disponibilità delle band oramai storiche, che questa volta l'hanno voluta dedicare a Casa Teveni e siamo ben contenti di aver condiviso con loro questa idea, questa opportunità. La musica delle band aretine si mette a disposizione della solidarietà in una serata organizzata dai veterani dello sport al teatro tenda di Arezzo. Il ricavato della serata andrà in favore di Casa Teveni. Vogliamo ricordare che cos'è Casa Teveni e che cosa fa? Sì, Casa Teveni è più conosciuto come l'orfanotrofio. In realtà questa è la sua missione agli albori. Poi mutate le esigenze del mondo del sociale, sono mutati i servizi che offriamo. Adesso quindi rispondiamo alle esigenze sempre dei servizi sociali in merito alle ragazze e madri, le ragazze sottratte le famiglie, donne vittime di violenza, gente un po' meno fortunata di noi, diciamo la verità, che gli diamo una seconda opportunità, una possibilità di rintegrarsi a pieno titolo nella vita sociale e spesso, devo dire, con un po' di piageria riuscendoci. Durante la serata sono stati premiati anche i fratelli Navini per il loro apporto alla musica retina, infatto soprattutto di strumenti, e poi due personaggi storici della giostra del Saracino, Mario Capacci e Paolo Parigi. Grazie a tutti i nostri spettatori,